gentili lettori di riviera 24 ben trovati e bentrovato a cesare faniani presidente della nuova dera pallabolo di sanremo buongiorno a tutti e buongiorno ai lettori di 24 benvenuto allora siamo ai blocchi di partenza finalmente vi state preparando per ripartire con la stagione ufficiale agonistica come e quando allora in pratica il primo calendario di campionato di interesse nazionale che è uscito finora riguarda la serie c femminile e noi la prima partita in programma ce l'abbiamo a finale ligure sabato 20 febbraio ovviamente alle ore 20 e 30 però in settimana usciranno anche i calendari dei campionati giovanili sempre di livello nazionale che sono 15 17 e 19 sia maschili che femminili quindi può darsi che la nostra prima partita di questa stagione si svolgerà magari o il 16 o il 17 febbraio nell'ucchiante prima della serie c in tempo di pandemia come vi siete preparati a questo appuntamento perché siete stati molti mesi lontani degli appuntamenti agonistici certo praticamente la nostra stagione precedente è finita il tre o quattro marzo come praticamente in tutta italia e molti campionati e anche di altre federazioni e c'è stato uno stop praticamente fino a maggio abbiamo subito lo stop dettato sia dalla federazione che dal coni che si adeguavano i dpcm che usciva noi abbiamo ripreso praticamente l'attività a giugno perché ci permettevano gli allenamenti proprio per i campionati di interesse nazionale quindi atleti di interesse nazionale abbiamo fatto tra giugno e luglio e metà luglio abbiamo fatto diversi allenamenti una media di due la settimana e poi abbiamo ripreso con come tutti ad agosto a metà agosto con un ritiro che abbiamo fatto un ritiro fuori sanremo in preparazione soprattutto alla serie c e sperando di partire a ottobre come era nelle previsioni poi c'è stato di nuovo un blocco e sono usciti vari dpcm e noi abbiamo bene o male potuto comunque continuare ad allenarci grazie a questo interesse nazionale che la federazione ci ha garantito su sugli atleti e da ottobre fino a dicembre abbiamo continuato l'attività c'è stato uno stop di 20 giorni perché è uscita la questione no campionati regionali pro giovanile eccetera e basta in pratica però abbiamo sempre continuato come vi siete preparati cioè dovete avete dovuto soggiaccire a regole particolari molto stringenti ovviamente certamente abbiamo dovuto in pratica la procedura a livello di sintesi era questa i ragazzi dovevano entrare uno alla volta non c'era l'uso né degli spogliatoi solo del bagno quindi avevano già preparati per l'allenamento doveva dovevano portare una manleva kovid che non ha avuto sintomi eccetera eccetera misuravamo la temperatura e dovevamo tenere un elenco ogni cioè un elenco di chi era presente allenatori dirigenti eccetera hanno la federazione ha istituito la figura del kovid manager questo per quanto riguarda gli allenamenti poi adesso partendo con le partite sarà ancora più stringente questa procedura in pratica questo kovid manager cioè per le partite in casa io intendo per le partite in casa noi questo covi deve accogliere la squadra avversaria e gli arbitri ritirare la manleva che è un po più specifica per la gara misurare la temperatura e accompagnare la squadra negli spogliatoi tutta assieme così gli arbitri nel loro spogliatoi e poi potranno uscire di nuovo tutti assieme ok e presentarsi al campo di gara ovviamente gli atleti per giocare e il primo allenatore che è quello che sta in piedi di solito a fianco della squadra senza mascherina gli arbitri la devono tenere fino all'inizio della gara perché ovviamente poi vedono il fischietto quindi è incompatibile e quindi se la toglieranno inizia la gara invece le panchine devono tenere la mascherina così come il segnapunti l'ha detto l'arbitro e penso anche il distanziamento ecco sì dobbiamo ottenere un certo distanziamento non sui giocatori ma sui sui dirigenti perché poi i giocatori vanno in campo quindi il distanziamento è limitato ecco un po quella la procedura e poi tra un set e l'altro dobbiamo sanificare le panchine e i paloni da gioco tutto più complicato purtroppo bisogna accettarlo ci può parlare un po di della sua società quando è nata quante squadre avete iscritto e quali sono le vostre ambizioni è la nostra società praticamente è nata nel 2001 cioè la asd nuova lega pallavolo da 2001 però le radici sono negli anni precedenti quando c'era lega pallavolo sanremo che non era una società era praticamente una lega così come dice il nome che raggruppava le società di alcune società di sanremo poi di lì si è pensato di dare alla nuova lega pallavolo per la lega pallavolo sanremo la squadra di punta quella di maggior vertice con vogliando le atlete più bravi in questa squadra e quindi ben dovuto fare un codice fippa e lì è diventata la nuova lega pallavolo affiliata alla fippa eccetera chi ha condotto per tantissimi anni la nostra società è enrico chiave che è mancato nel 2015 io sono subentrato proprio per non perdere la storia di questa vecchia società antica società pallavolistica di sanremo attuale noi generalmente abbiamo fatto fino a due anni fa facciamo la di femminile e i giovanili poi abbiamo pensato di dare uno scossone provare a puntare a fare un salto di campionato cioè arrivare in serie c come siamo adesso abbiamo integrato l'organico con alcune atlete esperte e siamo riusciti nella stagione 17 18 a passare in serie c l'anno scorso abbiamo fatto praticamente solo il girone d'andata e quest'anno partiamo a marzo partiamo a febbraio e non a settembre però l'intento come nell'intento della tutta la filosofia che ha messo enrico chiave di che io cerco di continuare quello comunque di dare lo spazio ai giovani quindi quest'anno la ci sarà affrontata da generalmente un under 20 ecco principalmente una squadra quindi far crescere le forze del settore giovanile esatto di fatti noi abbiamo una ragazza che sta giocando in b2 a cuneo e abbiamo due ragazzi che stanno giocando in serie b maschile la b1 femminile entendo la b2 femminile invece in serie b maschile sono abbiamo due ragazzi col colombo genova che sono sono approvati al campionato nazionale certo bene ringraziamo cesare fagnani presidente della nuova lega pallavolo di sanremo di essere stato con noi rinnoviamo il in bocca al lupo per l'inizio imminente finalmente dei campionati grazie a voi per averci seguito l'appuntamento è alla prossima